E di fianco a un bel Pissier si consiglia sempre una sana partitina a carte non i videopokeh, non la scala 40 che lasciamo a 40, la che è 52, 54 a carte, è un disastro 40 carte a servizio al comando per giocare a Prisco e a Prisco ha comandato una carta, una, inossidabile, elegante e la stelle vint la stelle vint la stelle vint tra le ragazzi di Gisela con la stelle vint la stelle vint la stelle vint Grazie a tutti 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 Wow